Musica Bisogna agevolare le forze dell'ordine nelle operazioni di controllo e non averne paura. È l'esortazione del Sindacato Nazionale dei Comprooro all'indomani dei controlli eseguiti in tutta la Valle Peligna dagli uomini della Polizia di Stato di Sulmona. Nelle scorse settimane, infatti, il personale di Via Sallustio ha effettuato controlli su otto esercizi e ha elevato sei sanzioni amministrative per violazioni di alcune norme sulla pubblica sicurezza. Voglio evidenziare la professionalità con la quale sono stati effettuati gli accertamenti, sottolinea Walter Cacchioni, presidente nazionale del Sindacato Comprooro e imprenditore sulmonese. Sono educativi e servono a mostrare come debba svolgersi la nostra attività, che non deve essere vista in termini preoccupanti, visto l'incremento di aperture su tutto il territorio, né come indicatore di disagio economico e sociale. L'intervento del sindacalista esorta gli operatori del settore ad avere un rapporto di estrema disponibilità con le forze dell'ordine, preposti ai controlli, poiché il loro lavoro di vigilanza serve a disciplinare e rendere chiaro il comportamento corretto da tenere per poter svolgere questo lavoro, conclude Cacchioni. Il presidente nazionale del Sindacato dei Comprooro vive in prima persona la doppia veste di gestore di un'attività di comprooro e di sindacalista e, proprio per la natura duplice della sua attività, sottolinea come i controlli siano utili a tutti gli operatori per incorrere sempre meno nelle sanzioni, a vantaggio dell'immagine generale di chi ha scelto di fare di questa professione il suo lavoro.